Cari amici, buongiorno, sono sempre io, Mauro Cominolli, il vostro pasticciere. Oggi volevo fare vedere come fare la crema pasticcera con il cioccolato e farla diventare una crema al cioccolato. Cosa facciamo? La stessa cosa che fare una crema pasticcera, la portiamo ad addensare. Quando la nostra crema è addensata, versiamo dentro il cioccolato. Abbiamo preso una tavoletta, l'abbiamo passato al coltello, verseremo dentro il cioccolato. Adesso portiamo la nostra crema che si addensa, poi spegneremo il fuoco e metteremo il cioccolato. Quando il nostro cioccolato, grazie al calore della crema, inizierà a sciogliere, farà diventare la nostra crema pasticcera una crema al cioccolato. Ora sta iniziando ad addensare, piano piano. Quando la nostra crema sarà bella addensata, metteremo il cacao. Il cioccolato, non il cacao, scusate. A un'altra crema bella densa, spegniamo il fuoco, versiamo all'interno il nostro cioccolato e continuiamo a mischiare a fuoco spento. Come potete vedere, la nostra crema pasticcera è diventata una crema al cioccolato. Quindi se a casa volete fare una crema al cioccolato, non dovete nient'altro che fare una crema pasticcera normale e prendere una tavoletta di cioccolato che potete trovare in qualsiasi supermercato. vi consiglio di usare un cacao, un cioccolato di qualità ed eccoci la nostra crema al cioccolato. Potete usarla per qualsiasi dolce che volete fare o per guarnire i nostri cornetti o addirittura fare un dolce al bicchiere se vogliamo. Ci mettiamo questa crema qui, la lasciamo raffreddare e ci mettiamo una salsa ai lamponi o qualsiasi altra cosa. Cari amici, vi ringrazio. Alla prossima ricetta e ciao!